Salve, cari followers, un terremoto sta colpendo l'Italia in questo momento, e questi sono i dettagli. Se la terra ha tremato poco fa in Italia, precisamente al nord e nella regione di Livorno in Toscana, questa sera, sabato 6 maggio, 2023, alcuni residenti hanno avvertito un terremoto molto lieve e, secondo il Centro Europeo per il monitoraggio sismologico, l'intensità della scossa raggiunta è di circa 2,2 gradi della scala Richter, quindi è considerata una scossa molto leggera. Si sente, ma è monitorato, ma come vi ho detto nei video precedenti, bisogna stare attenti in questi giorni di terremoti perché lo scienziato olandese Frank Ogrebitz sta ancora allertando i paesi del bacino del Mediterraneo, e come sapete è successo. Il forte terremoto di ieri in Giappone e alcune leggere scosse rimarranno prima di ciò, e noi stiamo sempre seguendo e sempre vigili per fornirvi informazioni oneste e tempestive e ogni altra notizia importante che vi forniremo in seguito, e alla fine, che tu sia in buona salute.